Si va verso la fusione per incorporazione definitiva tra GESAC, gestione e servizi aeroporti campani e l'aeroporto Costa d'Amalfi presumibilmente entro il prossimo primo novembre e quanto è stato siglato in un verbale di accordo firmato ieri a Napoli tra le parti presso gli uffici direzionali di GESAC. Una volta completato tutto l'iter partirà la rete aeroportuale unica regionale con la fusione, l'approvazione del nuovo statuto e il passaggio dei dipendenti da aeroporto Salerno a GESAC, un progetto di slancio per lo scalo salernitano che nel giro di 3-4 anni potrebbe finalmente consentire all'aeroporto di Ponte Cagnano di lavorare in continuità e in sinergia con quello di Napoli. Capo di Chino è quanto ha dichiarato ai nostri microfoni Gerardo Arpino, segretario generale della Filt CGL di Salerno. Sì, allora ieri finalmente c'è stato l'esame congiunto in GESAC fra la GESAC e Salerno Costa da Malfi. Ieri abbiamo sancito un punto importante e fondamentale che ci porta a questa definitiva funzione. L'atto verrà presentato al notaio da qui a qualche giorno e dovrebbe, dico dovrebbe perché sono i tempi tecnici, diventare definitivo per il primo di novembre. Ormai questa era una nostra battaglia, una nostra battaglia che abbiamo lanciato da tanto, ci credevamo, ci abbiamo sempre creduto e finalmente siamo riusciti ad ottenere questa fusione per dare un rilancio non solo all'aeroporto di Salerno ma a tutto il territorio salernitano. Possiamo dire che finalmente i lavoratori dell'aeroporto Salerno Costa da Malfi hanno ritrovato una tranquillità, sono rientrati all'interno di GESAC. Noi dobbiamo ricordare che eravamo l'unica regione in Italia ad avere un solo aeroporto. Ora possiamo dire con gran soddisfazione che abbiamo due aeroporti che però lavorano in continuità, lavorano in sinergia, quindi non l'uno che va contro l'altro. Si aspettiamo da qui a qualche anno, tra i 4 e i 5 anni, che l'aeroporto di Ponte Cagnano possa arrivare addirittura a svolgere i suoi 4,5 milioni di viaggiatori, così da dare lustro a tutto il territorio. Dal punto di vista occupazionale i lavoratori sono stati trasferiti con il 2.112 del Codice Civile, pertanto hanno portato tutti i diritti acquisiti qui e l'anzianità acquisiti in Salerno Costa da Amalfi, ora c'è solamente da lavorare, da sviluppare, devono partire i lavori. È stato avviato già il bando per l'allungamento della pista. Siamo pronti, siamo sempre vigili e vigileremo su tutto il proseguo dei lavori.